Ciao a tutti, buona vista, nostra città del Gliutano, prendiamo un buon spinto, se ne vediamo come potete sperare, eh! Pronti per la grande sfida, partita sarà, Juventus-Milanes, con noi, adesso vediamo Lazio, vediamo la Juventus contro il Milan, eccolo qua. Oh Elio, hai i numeri in capo, ah perché si vede, ah, Elio hai i numeri in capo, ah davvero non sto anche a scherzare, 28 secondi, se ne sono andati, metto da nascosta, eccoci dai, oh dei numeri in capo eh, aspetta, Elio, mettiamo Buffon in porta però, adesso ce l'hai anche negli occhi, oh, c'hai i numeri in testa, si va bene, ho il momento Buffon in porta però, e Scesni a posto di Perinne perché ne vale niente Perinne, vabbè, a posto, si parte, pronti, però si fa prima parte, seconda parte, primo tempo e secondo tempo, perché? Beh, un minuto già sarei andato, e la partita non è ancora inizio, però è un gol normale, di allenamento, così parte, pronti, 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 Juventus-Milanes, io sono a Juve, pronti via, però non mi ricordo che difficoltà, vabbè, andiamo così, Oh, c'è giocano forti i milanisti Che, chi te l'hai posta a sua palla? In Milano Ora hai preso la Juve, la Juve è finita Però hai preso la Juve, la Juve è finita Però hai preso la Juve, la Juve è finita Però hai preso la Juve, la Juve è finita No, no, aspetta, no, è meglio così, io mi vogliono giocare a me Eh, perché, perché la PlayStation è la mia, dicono, è meglio fai tu Ma che cazzo c'entra? Eh, però non è così, io dovrei tra i palmi, vabbè Chi sono i fan? Quelli di Roccaori, Capricano, Sezze, Latina, tutto il mondo Intanto, un minuto se n'è andato, è 0-0 Quattro minuti No, vado con il tempo mio Vai, rabbia Vai, una rabbia Accidenti, l'ho ripreso Allora, che cosa ne pensi di questa Champions League? L'Atalanta può fare, si può fare l'impresa Eh, diciamo che l'Atalanta è la Cenerentona Champions League Però, se battessi il paesaggio in me, nulla può scudere niente, signori Eh, io ho dei numeri in capo, eh Eh, lo so, lo so Ma che dai i numeri? Doi i numeri? Vai a dire a Douglas Ma da, ma se può avere un allenatore come perla? Ma che c'è? Ma nemmeno, ma che c'è? Ti sei imbriagato Vai Douglas, vai Douglas Costa Vai, lo so che costi Quello devi segnare Tiro La parata straordinaria, donna Rumma Bravo Douglas Ora la battiamo in rete, forza Pure con bianic Uh, fuori di pochissimo Dai, dai, batti, donna Rumma Vendi, la vendi Ci rendi come giocano bene E' il 10 agosto del 2020 Ma come l'ho fatto a fermarlo? Non è da farlo, secondo te? Beh, ovviamente non c'è il VAR In questa PlayStation È vero Però così sminuisci il gioco In PlayStation Ma è tutto Non c'è niente di vero Grande Buffon, un'ottima parata Si riparte con la B Quattro minuti Se ne sono andati Ma è Meglio, ma ecco Ora il video dura tanto No, no, no Mi finisce il primo tempo Ecco, posso Passare a Ronaldo Cristiano Ronaldo Oh, carciolano Vai No, prendi la, prendi la No, oh, oh Alexandro, riprendi la palla No, Ronaldo Ma vieni Vieni, dai, io attacca Però mi piace il segnale Oh E dai però Douglas Non ha buon controllo di palla qui Douglas Costa Ma Trovo accidenti Sta attaccando il Milan Fermateli Vai De rombi De rombi Paralo Grande Buffon Paralo o parata? Paralo Eh, vabbè, scusa Non è partito Vai Attenzione massima Signori Oh, come ho fatto? L'ho toccata da solo Vai, passalo Passalo subito Corri Vai Douglas Perfetto, perfetto Campo aperto Vai ragazzi Vai Douglas Costa Vai Vieni da in area Incredibile Per Donna Lumba Parla molte cose Ho detto no Non si rite Elio Concentrato Stiamo giocando la Champions Questa è una partita normale Ho messo partita a classi Ho messo partita a classi Prendi la Buffon Bravo Numero 77 GG Buffon Ma poi per ritornare Malbar Io manco a Pasce la Pecora Siamo al trentesimo Il parziale Ancora fermo Sullo 0-0 Ovviamente Ci sono un po' di tempo Tutto il secondo tempo Ancora da giocare Vedremo stasera Alla cenato Così farà Ognuno Magnerà le case Eh Eh Di che anni stiamo parlando Parish Oh No Dico Tu Di PlayStation E non mi Ponte Oh Ma che sta Embriaco Si chiama Stefano Nava Devi chiamarlo Stefano Nava Ti posso Non piccarti Eh dai però Non vuole calcio D'angolo Com'è c'è più Sto partito Vai vai Pjanic Ma Pjanic Non è andata al Barca Aspetta Se riesco a tirare Non ho fatto No ma che cavolo Peccato peccato Siamo al quarantesimo Ancora 0-0 La Juve però Segna sempre il secondo tempo Eppure Staremo 8 minuti 8 minuti 8 minuti fa chi? Il video Che ne sbaglio quando vuole E 8 minuti Arriva da mu No no Paralo Buffon Numero 1 Di numero 1 Gigi Buffon Vai Ronaldo vai Ma dai però Ma stranamente Non ricordo Che ha messo una difficoltà Così difficile Ma stranamente Gioca bene in Milano Deve essere Ma io Attenzione Che brivido Che brivido Ma il brivido Ci è arrivato Che brivido Che brivido Vero Elio? Accidenti È risultato un brivido Felino Mamma mia Che brivido Dai Dai ma che cavolo Stai Lo stesso Mi è un po' Vado Alla fine Il primo tempo Terminiamo Terminiamo qua La prima parte Ok finire la prima parte Ci vediamo subito La seconda Buona Allegria E buona la prima Da E tre seghe E di bala La seconda La seconda Ma perché la seconda? La prima Chiudiamo